Per tutti questi motivi, per la necessità davvero di portare ad un mondo di pace, di non violenza, per smantellare le centrali nucleari, gli armamenti, per cominciare a destinare i 1300 miliardi di dollari anziché alla corsa agli armamenti, all'istruzione, all'educazione, a creare nuovi posti di lavoro, per questi motivi molto semplici ma che determinano il futuro dell'umanità ho accettato di candidarmi al Parlamento europeo, ho accettato la proposta di Italia dei Valori, di candidarmi come indipendente e di riuscire a portare là, in questa che è la massima istituzione, espressione della volontà dei popoli d'Europa, questo messaggio di pace e di necessità di introdurre la non violenza come metodologia d'azione, questo basato sul principio di tratta gli altri come vorresti essere trattato e questo è un messaggio che a fianco agli altri valori che contraddistinguono la civiltà europea vogliamo portare presso il Parlamento europeo.